Questo tour è voluto dal nuovo consiglio di 50 e più per farci conoscere meglio su tutto il territorio. Noi sul territorio della provincia di Pesaro Urbino abbiamo 3.200 associati, però vogliamo farci conoscere innanzitutto da persone nuove che a breve magari andranno in pensione o sono appena andate in pensione e quindi avranno bisogno del nostro sostegno come sindacato Enasco per le loro pratiche. E poi dai vecchi associati, da quelli che sono associati i nostri da più tempo per informarli del nuovo programma che vogliamo fare in questo quinquennio del nuovo consiglio. Noi abbiamo come Enasco e CAF una serie di servizi che sono l'assistenza fiscale, l'assistenza legale e la consulenza come previdenza. E poi anche molto altro perché ci sono tantissime situazioni che un associato può venire a chiedere per risolvere il suo problema. E poi c'è tutta la parte cosiddetta ludica, la parte sociale dove facciamo attività culturali, attività sociali, convegni per quanto riguarda la salute, il benessere, la cultura. Poi la parte ancora sempre che ci piace molto anche presentare, facciamo delle bellissime gite, la prossima sarà a Torino nel mese di ottobre. Viaggi con il sistema nazionale che organizza bellissimi viaggi e anche una volta al mese delle cene. Per cui insomma ci manteniamo in buona salute e con tanta voglia di stare insieme e di portare avanti i nostri obiettivi.